le collezioni di paolo paoliniuv seguici su youtube e facebook ciao a tutti amici dei collezionisti e di sorpresine sono io catus lo so che comparivo senza catus ma non preoccupatevi a novembre apriremo il negozio di paolo paoliniuv e faremo una reaction agli vecchi video delle collezioni di paolo paoliniuv al post niccio di tedis patinata la bocca invece di tedis che tedis non li piacciono le patatini saccarlo uno delle winds perché a tedis non li piacciono molto le winds di adesso ok c'è in compagnia santeletabis ciao a tutti ragazzi sono io santeletabis e comparirò gli universi nell'episodio 7 mi vedete all'opera nell'episodio 7 capito io insieme a santeletabis recensiremo san carlo junior le patatine senza glutine le patatine delle winds club che è una nona serie una decima vabbè prima di aprire le patatine delle winds e vedere tutte la collisione ma non collisioneremo mai tutte le winds è impossibile collisionare tutte come quelle di hello kitty che sono già uscite ok quelle di hello kitty e per maschi non lo so ciao non seguiamo mai san carlo junior di sorpresine ok se dico una parola hello kitty e san carlo junior uscite le patatine di hello kitty a tedis si ne ammarò e dice voglio le patatine di hello kitty della san carlo junior per favore vabbè apriamo allora allora san carlo junior le patatine senza glutine in ogni confezione una stickers box qua abbiamo le winds della nona generazione o della nona serie boh guardate che look abbiamo stella blu ma e flora grazie paolo paolini un flora come ogni serie della san carlo junior sono sempre sei ovvio che dice le tue fantastiche mitiche wins sempre con te beh a tedis non li ritrova fantastiche li trova bruttissime le winds vabbè magiche stickers boss collisione di tutte collisioniamo solo uno delle patatine delle winds uno sticker boss delle winds chi troviamo vabbè solo uno e basta e rainbow vabbè fai le patatine guarda poi compiono 20 anni hanno compiuto 20 anni del pilota delle winds 2003 2023 non va a fuoco 2003 2023 c'è le winds club il nome delle winds sono create dalla rainbow qua possiamo trovare i stessi protagonisti ovvero bloom stella flora aisha questa come si chiama musa musa ceramica e è la mia preferita mi piace mi piace tecna vecchia ma tecna nuova non mi piace per niente guarda che carina tecna bellissima è vabbè vado alle ciance e apriamo san carlo junior le patatine senza glutine delle winds club nona diecima serie abbiamo trovato c'è una formica abbiamo trovato flora che carina abbiamo la bambola di flora ma l'ho persa allora vediamo dove prodotto flora prodotto da euro system c'è il winds club un cartone mazzo italiano guarda san carlo gruppo alimentare presenta abbiamo trovato flora quindi delle patatine zaccalino winds troviamo flora sempre anche aisha bloom stella va poi una serie brutta diciamo vero catus si anche a tedis non gli piace le patatine delle winds si dimmelo dimmelo a esatto allora va bello tutte le winds sono cinque virgola cinque su dieci ma questa sorpresa che abbiamo trovato flora le diamo un set i virgola 0 6 6 virgola 0 su dieci a quelle sorprese va bene ragazzi finito il video iscrivetevi al canale di paolo paolo in uvo originale paolo paolo in uvesta gli universi canale speciale e comparirò nel gli universi ma sono buono anche se sono una femmina poi femmina va beh ok seguite sempre paolo paolo in uv cliccando la campanellina per non seguire per seguire sempre i video di paolo paolo in uv condividete commentate questo video commentate questo video se conoscete le wins quelle nuove e vi odiamo e odiamo le wins sui maroni e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti